La presentazione di voi? Sono Gabriele Foschini, da Italia e il mio club è Esercito Italiano. Quali sono i tuoi sentimenti dopo questo individuo? Quando guardo la medalistica, non penso che sia vero. Quale è la tua squadra? Io prima, il mio amico è il secondo. Credo di prendere un'altra medalistica per l'altro amico. Stai coinvolto con la tua squadra? Sì, speriamo di prendere un'altra medalistica. Quale colore? Gold. Solo gold. Sì, è buono, le persone sono molto amici. Perché siamo tutti amici. È un buon posto. Il potere per vincere.